I minerali ed i fossili affascinano letteralmente molte persone, tanto è vero che alcune di loro diventano appassionati i collezionisti. Talvolta la passione dura per gran parte della loro vita, permettendogli di imparare una notevole quantità di informazioni circa gli oggetti naturalistici collezionati. Nel corso della loro attività a queste persone capita, sovente, di entrare in contatto con ricercatori universitari o di musei, con i quali instaurano talvolta rapporti di collaborazione e in qualche caso persino di amicizia. Queste persone che si sono occupate con tanta passione di minerali e di fossili, a un certo punto della loro vita, specie si hanno messo insieme una collezione importante, cominciano a rendersi conto che il frutto delle loro fatiche non deve finire con loro, ma deve invece avere la possibilità di continuare ad essere fruibile per altre persone che sanno apprezzare questi reperti e soprattutto per i ricercatori, cosicché il materiale collezionato possa essere ancora oggetto di studi scientifici. È da questa riflessione che nasce il desiderio di conferire la propria collezione ad un museo. Negli ultimi trent'anni il Museo Civico di Alba ha ricevuto reperti vari da molte persone. È però un dovere ed un grande piacere citarne sei che hanno scelto di conferire interamente la loro collezione al nostro museo. Il primo, nel 1996, con la sua collezione di belle conchiglie fossili dell'Astigiano, è stato Luigi Morra, di Torino. Quando l'amico che ci mise in contatto mi portò da Gino, trascorremmo con lui una giornata, veramente intensa, ricordando fatti e personaggi della subacquea italiana, che ci accumunavano nonostante una certa differenza d'età. Poi, nel 2003, c'è stato Fernando Voerzio, di Torino, con la sua collezione di minerali raccolti con fatica e aggiungo con pericolo, in quanto cavati per la maggior parte in miniere dismesse del Piemonte. Nel 2008 è stata la volta della collezione paleontologica di Abele Berni, di Ivrea. In effetti, consegnataci dalle figlie, in quanto il papà era già deceduto. Si tratta di una raccolta di conchiglie fossili, soprattutto del biellese, che comprende alcuni pezzi particolari di rara bellezza, tra cui una perla fossile. Nel 2015 sono seguiti i minerali delle valli cuneesi di Ezio Franchino, di Boves, consegnatici grazie all'interessamento del fratello Giampiero, membro di un gruppo di ricerca che fa capo al Museo di Alba. Nel 2017 abbiamo ricevuto i meravigliosi fossili di Ippolito Bentivoglio e della sua gentile consorte Gabriella, di Torino. La loro collezione spazia dalle conchiglie dell'Astigiano ai pesci fossili del Cuneese e della Francia, dagli Echinodermi della Sardegna agli Ammoniti della Francia. E infine, nel 2019, la vasta collezione di conchiglie fossili degli intorni di Nizza-Monferrato, che ha formato per studio il caro amico Lorenzo Mariano Gallo, già conservatore al Museo regionale di Torino. Ho citato con enfasi questi casi perché bisogna riconoscere che per ogni collezionista rinunciare a qualcosa di materiale che ha raccolto nel tempo con amore, tenacia e fatica, per lasciarlo definitivamente a disposizione della scienza e della collettività, non è per niente facile, anche emotivamente. Per tutti questi motivi bisogna rendere onore a coloro che conferiscono la propria collezione ad un museo, ma non solo, si deve riconoscere che la loro azione rappresenta un atto di grande civismo, io direi da emulare.